Che brutti robottini però, cazzo. L'ho ucciso con la granata, non ci voglio credere. Che brutti che sono i robottini della guerra dei cloni. Dov'è il merda? L'ho visto, cazzo. L'ho visto prima la merda qua. Muerto qua. Mi sono vendicato, Pablo di merda. Cazzo. Cazzo. Non posso metterlo. Gli poi l'ha fatto bene, cazzo. La grafica è favolosa, cazzo. Cazzo. Uuuu. Mamma, mi muoio, sciottano quelle pistole. Ho preso un altro con la granata, ne sto chillando il mondo. Non c'è neanche un po' niente di vedere l'arma. Figaro in tre, cazzo, ho ucciso uno, ma gli altri due no. Dio boh. Ho preso una scivolata laterale davanti. Con il rosso puoi... Con il rosso puoi scivolare, spostarti da un muro all'altro. E non puoi abbassarti. Si, si. Tenilo premuto. Tenilo premuto. Hai visto se il rosso puoi si abbassa? Si. Ma quel giocatore c'ha scritto Luca Hardy sulla testa. Scusa? Ho capito Luca Hardy e testa. Come ho detto, quel giocatore lì ci ha descritto Luca Hardy sulla testa. Ma non sei tu? Sei nella mia partita, no? No, no, no. Ma va come faceva Saterno, dai. E c'è il radar sotto. Un altro minuto non mi piace. Cazzo. Minchia, non ho neanche trattato da granata. Cazzo di colonio. Roger, roger. Roger, roger. Roger, roger. Roger, roger. Ah, ci vediamo a noi, eh. che cazzo è? Ma si può giocare in terza persona, va? Come? Schiacciando in giù. Schiacciando in giù. Schiaccia in giù. Uh. Orcodias, ma hanno preso di brutto. Roger, roger. Roger, roger. Faccio una fatica di far giocarsi giochi. Una volta non facevo così fatica a giocare da sti giochi. Adesso figa, faccio una fatica. I riflessi. Farsi di benedì. Ma non è tanto i riflessi, è proprio boccia. Sono questione di riflessi. Il cazzo è che lo diceva. Ma a Rainbow Six, ad esempio, non ho questi problemi. Gioco bene. Cioè, questi giochi... Giochi bordellosi così figa, me la faccio. Perché sai, mi stanno su cazzo i giochi con la rinascita. La gente si fionda a destra e a sinistra come se non ci fosse un domani, capito? No, quando... La cosa che non va permessa è lo Spunkin. I rinasciti dove già ti possono uccidere. Sì, della possibilità di appostarsi, dice. Sì, come... Ti vedono già e possono già spararti quando rinasciti. Mi nasce molto. In alcuni giochi... Provo a camperarmela, vediamo come va camperandomela. Tu come vai in giro con la spada? Eh, chi sblocca l'eroe può usarlo con la spada laser. E trittura tutti i figli. Lo arano facile. No, no, tritturano tutti. Sì, questo qua... Sto qua c'è un robot... Che cazzo ha cavallo di un robot? Ma... Ma che abbiamo aperto un cancello. Stiamo entrando a Naboo. Morite tutti. Il senato vincerà. La Repubblica deve cadere. Spara quella... Sì, sì... Che ci sia la... Domana. No, però quella granata qua da me... Oddio... Sì, questo qua a cavallo. Come cazzo ha? Eh no, muore! Li stiamo sparando in otto! C'è un cecchino, c'è un cecchino, cazzo! Ah, dai! Mi muociola. Una pistola. Non so quanto rende ancora. Stiamo devastando. No. Non mi sto curando per nulla degli obiettivi, scusate. Un fucile finto. Ma chi è che li sparano a scapire? MTT targeting weapons. Vabbè, guarda qua che non capisco che mi sparo. Ma c'è gente che non spetta stava dicendo? Non c'era. Ma che stiamo entrando, siamo spawnati i cancelli, cazzo! L'unico a piedi siamo unico pirla a piedi per me. Come on guys, come on! Yeah, madrefaka! No, non posso andare ancora qua. Ah, provo a farlo adesso in terza persona in fondo. E fa la caprino laterale. Ok, ora possiamo andare. Veniamo a prendervi raga, veniamo a prendervi! Si pippo tutti! Muori pezzo di merda! Muori! Muori! Sto ammazzando tutti, sto ammazzando! No, mi piace un Jedi, cazzo! C'è un Jedi, cazzo, c'è un Jedi! C'è un Jedi! C'hanno un Jedi loro, cazzo! Come si fa a tirarlo giù? Ah, basta! Basta! Ah, perché giochi da solo! Se giochi con la tattica... Come stiamo facendo noi! Stanno sparando lui! Oggi mi dicevo a martellarlo con cucina raffica! Uccidono lui! Ora con due mi hanno preso il brucio! Ah, questo qua! Mica Ian solo è questo qua! Ma vaff... Cos'è Ian solo? Eh, anche lui gioca da solo, allora! Non gioca da solo, è Ian solo, coio! Roger, roger! Roger, roger! Due... Uno... ... ... ... ... ... ... Preso raga Preso Figa Figa non muore cazzo Ora abbiamo un sit noi con la spada laser Gli sto incollato nel culo al mio sit con la spada laser Spaga tutto adesso Vai distruggi tutto zio Spaga i tutti No c'è un g di contro il sit Ne abbiamo perso C'era loro che avevano il Jedi E noi che avevamo il Sith Sono scontrati Bellissimo Questo qua ha fatto 46 kill Sto utilizzo Non è possibile Ho fatto due livelli in un colpo solo No veramente scusami Voglio vedere Ma questo qua ha fatto veramente